Dobbiamo cucire dei tessuti molto grossi. Come fare? Abbiamo a disposizione un aiuto molto facile, la piastrina elevatrice che si può utilizzare su tutte le macchine. Quando dobbiamo fare un bordo molto spesso come l'orlo del jeans, in questo caso abbiamo nove strati di tessuto da superare, possiamo aiutarci con la piastrina elevatrice. La piastrina elevatrice è uno strumento che è composto in plastica, è composto da due parti, una parte più spessa e un'altra parte più sottile e sarà molto utile per effettuare i salti sui tessuti più grossi, aiutare la macchina a non sforzare e allinearsi alla parte più grossa del tessuto che dovrà affrontare. Posizioniamo la piastrina elevatrice sotto al nostro piedino quando dovremo effettuare le nostre cuciture. Quindi avanziamo. Una volta arrivati al tessuto più grosso, ci fermiamo con l'ago abbassato, manualmente o automaticamente come con questa macchina, alziamo il piedino e poniamo la nostra piastrina elevatrice nella parte dietro del piedino in modo da fare in modo che il nostro piedino sia alto tanto quanto il salto che dovrà effettuare. In questo caso sto effettuando una cucitura tripla, la macchina andrà avanti, indietro avanti, arriverà nella parte più grossa senza sforzi, senza fatica, non spingiamo il tessuto, non tiriamolo da dietro. Quando la macchina ha superato la parte più alta ed è pronta ad affrontare la parte, a ritornare nella parte bassa del tessuto, alziamo, posizioniamo sotto la nostra piastrina elevatrice e continuiamo a cucire. La macchina non si troverà con un grande salto da compiere, ma sarà sempre allineata all'altezza che già aveva. Mi raccomando, ricordatevi di stare accorti e togliere la piastrina elevatrice quando il nostro piedino sarà posizionato totalmente sul tessuto con pochi strati. Andiamo a vedere il nostro lavoro effettuato. I punti sono stati, sono tutti perfetti, non ha avuto nessun disagio a passare nella parte grossa, non abbiamo sforzato la macchina e la nostra piastrina elevatrice ha fatto sì che non ci siano stati dei problemi per andare nei bordi grossi. Inserire l'ago. L'ago, i sistemi delle macchine per cucire con 130-705H, hanno una parte piatta e una parte tonda. Con questo foro posizionato nella nostra piastrina elevatrice metteremo l'ago nella posizione giusta con la parte piatta rivolta verso dietro, posizioniamo il nostro ago sul morsetto ago, spingiamo bene in alto, con il cacciavite chiudiamo la nostra vite e togliamo la piastrina elevatrice, la sfiliamo da sotto e siamo riusciti a posizionare perfettamente il nostro ago anche se abbiamo delle difficoltà in manualità.